Entro il 10 ottobre la città di Pozzuoli si avvarrà di una nuova segnaletica e di nuovi sensi unici per rendere più scorribile il traffico nella zona maggiormente interessata dalla movida notturna. Possibile qualche cambiamento lungo via Terracciano col tentativo di spostare il mercato in una zona meno trafficata. Quello della viabilità è un tema la cui delega compete all'assessore Franco Fumo e per la quale l'amministrazione ha deciso di definire alcuni provvedimenti particolarmente incisivi soprattutto per il centro storico. Più che un piano traffico sono i primi provvedimenti che abbiamo preso per migliorare la viabilità o almeno speriamo di migliorare la viabilità nel centro storico. Riguarda essenzialmente il centro storico e quindi non è un piano che tiene conto di tutta la città. Proseguiremo a piccoli passi, a step, quindi adesso abbiamo fatto questo provvedimento, partiremo fra una decina di giorni. Rendere il traffico più scorrevole quindi, con disposizioni che si articoleranno in varie parti. Dobbiamo fare alcuni sensi unici perché con i sensi unici si eliminano tutta una serie di incroci che sono delle teri per la fluidità del traffico. Abbiamo chiuso, si prevede di chiudere Porta Napoli, chiudere la Darsena, però nello specifico poi rinviamo tutto ad una conferenza stampa che faremo da qualche giorno. Sul piano tecnico l'amministrazione si avvalsa delle competenze della Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II. La Federico II, il professore Sforza, stava svolgendo già un lavoro per la provincia. Quindi noi abbiamo utilizzato questo lavoro, abbiamo dato dei dati e loro gentilmente si sono messi a disposizione. Quindi è una duplice collaborazione. I nostri dati servivano all'università. La nostra città è stata presa a campione dalla Facoltà di Ingegneria. Praticamente abbiamo solo pagato una piccola società, ma stiamo parlando di poche centinaia di euro, perché alcuni ragazzi hanno rilevato i flussi. Questi erano dati che erano indispensabili per il progetto. Con questi dati la Facoltà di Ingegneria ci ha fatto un piano.